Il libro che vi presenterò oggi si intitola Mio fratello rincorri di dinosauri, è stato pubblicato il 26 aprile del 2016, è di genere narrativa e il protagonista e scrittore di questa storia è Giacomo Mazzariol. Il libro racconta la storia di Giacomo Mazzariol, un bambino di 5 anni con due sorelle e due genitori fantastici. Viene però tormentato dal continuo desiderio di avere un fratellino con il quale fare giochi da maschio. Una sera i genitori gli annunciano che un fratellino ce l'avrà, ma che sarà speciale. Giacomo fraintende la parola speciale e attribuisce ad essa il termine supereroi con i superpoteri. Quando il fratellino viene al mondo, a poco a poco il nostro protagonista nota che sia diverso dagli altri, ma non possiede alcun superpotere e successivamente viene a conoscenza della parola down. Improvvisamente l'entusiasmo si trasforma in rifiuto e vergogna. Attraversata l'adolescenza però, Giacomo si lascia travolgere dalla vitalità del fratello, per concludere che forse un supereroe lui lo è davvero. Giacomo si lascia travolgere dalla vitalità del fratello.